L'obbligatorietà del Green Pass sul posto di lavoro ha causato un'impennata nel sistema pubblico e privato di gestione dei tamponi, con decine di migliaia di test effettuati e un numero enorme di richieste. Ieri abbiamo fatto 55.000 tamponi, le farmacie sembrano averne fatte molti di più di 30.000. Tutto sommato ci risulta un po' di fila in qualche farmacia, però le cose sono andate bene. Vedremo inizio settimana, io credo che ci sarà molta più pressione domenica, sul lunedì o oggi anche sabato, perché chiaramente venerdì era anche il giorno di fine settimana, quindi probabilmente c'era una pressione inferiore, quindi monitoreremo molto bene oggi e domani e poi vedremo lunedì. Crescono anche i vaccini pur se in misura minore. L'importante è l'obiettivo dell'immunità di Grecia e una copertura più ampia possibile della popolazione. Abbiamo fatto 20.000 vaccinazioni ieri, somministrazioni ieri e quindi c'è sicuramente un incremento rispetto a qualche giorno precedente. E sui tamponi in azienda, come ha chiesto più volte il governatore Luca Zaia, la regione è già pronta a rispondere alle istanze del comparto produttivo. Solo la settimana prossima, inizia settimana prossima, si avrà il polso della situazione e capire effettivamente quanta pressione ci sarà e se il sistema riuscirà a reggere.